Caterine Bisley al Lago Film Fest il suo cortometaggio Wide Height è in concorso internazionale lo racconti ai nostri ascoltatori Caterine Bisley è qui al Lago Film Fest il suo film Wide Height è in l'internazionale competizione puoi raccontarci sull'internazionale? Wide Height è un film che ho scritto based on some of my experiences growing up in small isolated communities in New Zealand I initially wrote a feature film about a girl in one of these places and there was a minor character in this feature that interested me so one day I really wanted to make a short film and I thought I'm going to make a short film about this other character from the feature film looking at the story in a whole separate way so that was the seed of the idea and yeah, it's a film about a story that is close to my heart because even though it's not the plot doesn't personally reflect my own story I think it reflects a story that is important to tell and that is also thematically very much what is of interest to me and what I want to artistically explore Ok, questo film è basato su alcune delle mie esperienze di crescita in una piccola comunità in Nuova Zelanda e dunque questo personaggio principale di Wide Height era un personaggio minore che io ho preso da un altro lungometraggio che ho fatto e un giorno ho pensato farò un corto che sarà concentrato su questo personaggio e così da qui è nato lo spunto iniziale Che cosa le piaceva proprio perché questo lavoro parte da un lungo cosa le piace nella sintesi del cortometraggio? What do you like about the short film the short film shape, let's say? The thing I like about the short film is that it's a really good option to create a strong and intense experience of a place and of a person's experience of that place so with my character Jade she comes into this world where she's a stranger and there's no reflection of herself and the short film form provides a very in 11 minutes I can recreate one aspect of that experience in a strong way and of course there are other currents that run through and I hope that the short film is like a question in some ways it's a film that poses a question and sends that off out into the world and the audience keeps on thinking and searches for their answers dunque cortometraggio è una buona opzione per creare una forte ed intensa esperienza per focalizzarsi sull'esperienza di una persona e del mondo che le sta attorno e ad esempio questo personaggio Jade diciamo viene il suo mondo viene concentrato in questi 11 minuti di cortometraggio ma come è nata l'idea appunto di questa macchina che pedina questo personaggio ma al suo tempo lascia un grande respiro perché un altro personaggio del film sia il paesaggio come è nata l'idea di una camera che seguendo il carattere ma anche che hai un'ottima viso sull'interno del mondo io voglio il carattere molto molto mentre siamo inmercati in Jade's esperienze di questo mondo tanto con la camera e anche con i soni che si senti io very much wanted it to be from her perspective at the same time I think it is important in the story about isolation that you see her dwarfed in this bigger landscape so you see how small and how isolated she is and through aspects of the design we were able not only through the camera but also through her clothing really giving dressing her in bright colours like pink and reds and oranges that really pop against the green and grey world which she's found herself in and also say with the camera movement we very much that sort of slow creeping feeling through slow dolly shots to really to really give a sense that it's an uneasy the world is uneasy and she's gonna have to find a way out rebel against her ok dunque il modo in cui vediamo diciamo vediamo il mondo di Jade la sua prospettiva attraverso appunto queste inquadrature ravvicinate e tramite il suono anche per cui abbiamo una vediamo bene quello che pensa lei ciò che pensa e vede Jade quindi è una ci si avvicina al personaggio ma allo stesso tempo lei viene inquadrata all'interno del paesaggio per far capire la sua isolazione rispetto a questo mondo che la circonda un po' ostile allo stesso tempo questo effetto viene anche ripreso col fatto che i vestiti diciamo sottolineano appunto la sua estranità al mondo circostante quindi contrastando con il paesaggio e come ha trovato appunto la sua attrice protagonista e anche l'altra ragazza come hai trovato il carattere della storia e anche l'altra ragazza abbiamo trovato tutti i ragazzi e i ragazzi per il film all'interno 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 tutti i ragazzi sono tutti non-interno Brooklyn Double che si chiama Jade ha fatto un'interno local in un'interno in un'interno in un'interno in un'interno e Steph l'altra ragazza che non ha avuto prima e Ben che era Chance ha fatto un'interno in un'interno in un'interno in un'interno film ma non ha avuto un'interno un'interno quindi è stato molto davvero l'interno l'interno per il film veramente getting in to the community e finding perché i think for the story for its authenticity it was so important to find children e teenagers who could relate e who were part of that world ok dunque tutti gli attori tutti i ragazzi che ci sono nel film li abbiamo presi li abbiamo trovati alla scuola superiore locale e sono tutti attori non professionisti l'attrice che interpreta Jade lavorava in un teatro locale aveva fatto delle recite localmente mentre l'altra attrice non aveva cioè era non professionista quindi non aveva mai lavorato in un cortometraggio ed è stato un processo fantastico ed anche molto interessante e utile diciamo al film è stato intenso in quanto ha servito avvicinarsi alle persone del posto ma già in fase di sceneggiatura aveva deciso che il lavoro che i suoni avessero un peso così preponderante ma che fosse completamente esclusa l'idea di inserire delle canzoni nella colonna sonora di il sound, hai già deciso durante la parte del script writing che il sound era stato un importante place, ma che non aveva usato una soundtrac? What was the last bit, the soundtrack? She said Yeah, that you wouldn't have Used like a soundtrack So did you Consider, I mean To what extent did you I mean When did you consider to use the sound In that way? Right from the beginning of The writing process, I always think about Things like sound And colour They are very Important in informing my process In the writing part of the film One of the things that Happened when I, because I moved to the city When I was a teenager And when we were looking for the location I noticed one night That it was quiet And that scared me a little bit So there were natural There were natural noises But there were no cars or anything And suddenly I realised that I'd kind of become a city A city girl So the The sound The sound, all the natural noises And the way in which they're Broken by guns And motorbikes And chainsaws They were Yeah, they were all very important In shaping the story And the birds And the river In terms of the music That we used I really wanted It was one of the ways To contrast Jade With her world Was she listens to The types of music She listens to So she's listening to Sort of Kind of upbeat Sort of a little bit electronic And hip-hop So you We hear through her headphones And her perspective Where they're hearing her music Which is Totally different To the natural sound And Yeah, all that noise Okay Allora Per quanto riguarda Sia il suono Che il colore Ci penso Sia il subito Mentre scrivo la sceneggiatura E una delle cose Che è successa Riguardante questo film È che mi sono resa conto Che Spostandomi Dalla Dalla natura Alla città Si Percepisce Un suono Vramente diverso Quindi C'è un cambiamento Proprio Nel Nei suoni Che si Che si trovano Uscendo Dalla città E quindi Si accorta Di come fosse Influenzata Dal suono Della città E per quanto riguarda La musica Ad esempio Usata Quando Jade Ascolta La musica Sull'autobus C'è un contrasto Appunto Con questa musica Che lei ascolta Molto Upbeat La chiama Quindi c'è un contrasto Appunto Col mondo esterno E questa musica Assolutamente È un mondo naturale E questa musica Così moderna Si Sembrava quasi Che il lavoro Voressa avere Un approccio Documentaristico No? Di questo Pedinamento Escludendo Tutto il resto In termini L'uso della camera Volevo che la gente Intuisse Che Volevo aggiungere Una prospettiva Proprio Il punto di vista Di Jade Quindi il modo In cui Lei vede il mondo Volevo capire Questa è una premiere Europea Del film Qual è stato il percorso Che il film ha avuto Finora Appunto Nel suo paese E qual è la situazione Della cinematografia Indipendente In Nuova Zelanda In questo contexte Ok dunque Il film è stato mostrato Sia in Nuova Zelanda In un paio di festival Che al Melbourne International Film Festival E la premiere Questa è molto emozionante Per quanto riguarda Il finanziamento È stato finanziato Dal governo Nelzealandese Il che è una cosa Molto Una cosa fantastica E l'abbiamo mostrato Al New Zealand Film Festival E anche a Melbourne Dove ci sono state Le reazioni molto buone E abbiamo ricevuto Anche parecchie nomination Per alcuni premi Per quanto riguarda Invece la situazione Finanziaria Non ci sono molti fondi Al momento In Nuova Zelanda Per fare film E quindi Questo comporta Il fatto che i registi Debbano adattarsi A questa nuova situazione Economica Ed essere quindi Più innovativi Nel fare film Questo comporta Che ci siano molti progetti Molto interessanti E ci sono anche Appunto dei buoni tecnici Che spesso vengono A lavorare Per questi film E lei sta lavorando Ad un nuovo progetto Are you working On any new projects I'm working On a couple of A couple of projects But the main one Is a feature film Which is Set in a small town In New Zealand It's a family Feud Drama Thriller It's a thriller So Thanks Ok Sto lavorando A un paio di progetti Ma il principale È un lungometraggio In una piccola città Nuova Zelanda Ed è principalmente Un thriller Di famiglia Che giù è un luogo di progetti Che giù è un luogo di progetti Che giù è un luogo di progetti Grazie a tutti